Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Tempo stabile grazie all'anticiclone ma peggioramento in arrivo. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 19 novembre. Sole prevalente al mattino da nord a sud, da segnalare solo nebbie sulla pianura padana e residui piogge sulla Sicilia orientale. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e sole prevalente su tutti i settori. In serata e nottata peggiora prima al nord-est e poi sulle regioni del centro con piogge e acquazzoni, più asciutto al nord-ovest e al sud. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.